Una forza diabolica gli ha preso la vita, una forza ultraterrena l'ha riportato sulla terra. E' uno spirito cosmico a cui è stata concessa un'altra possibilità. Sparagli alle gomme, scemo! Un fantasma, no? Uno spettro, uno spirito dannato, Dio lo sa che cosa. Mettimi giù, lasciami! Monta in macchina! Che altro combini, sei impazzito? Levati dai piedi, se non vuoi fare la fine di tuo fratello! Calmi, chi era quello là? Non lo so, ma chiunque fosse era un maledetto schifoso! Io ho visto i suoi occhi, Luca. Ma tu chi sei? Ma chi sei? Il replicante. Se non avete fatto niente di male, non avete niente da temere.